Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è sabato 13 agosto 2022, il sole sorge alle 6.09 tramonterà alle 20.18. Siamo nel weekend di agosto, un periodo di vacanze, di tante iniziative, di tante manifestazioni, in questi giorni si tiene anche il carnevale di Fano dato che a febbraio non si è potuto tenere a causa della pandemia, ma questa è solo una delle manifestazioni che animeranno tutta la costa marchigiana in questo periodo di agosto che è l'alta, l'altissima stagione turistica. E noi iniziamo questa mattina la nostra rassegna stampa a partire dall'almanacco con il santo del giorno, anzi dobbiamo dire i santi del giorno, perché oggi si festeggiano San Ponziano e Sant'Ippolito. Ebbene è curiosa la storia di questi santi che vissuti nel terzo secolo sotto gli imperatori Severo e Alessandro Severo e Massimino si combatterono l'un l'altro. Ponziano era papa, Ippolito lo aveva accusato di troppa indulgenza e aveva proclamato un'aperta ribellione diventando lui stesso il primo antipapa. Tra i due aveva risolto poi la contesa l'imperatore Massimino che aveva esiliato entrambi nelle miniere della Sardegna. Qui Ponziano e Ippolito si riconciliarono. Ponziano rinunciò al pontificato in favore del greco antero e in seguito entrambi morirono per le sofferenze patite nelle miniere. Ecco si riscattarono e furono veramente due persone edificanti per tutti i fedeli della Chiesa che allora era ancora ai primordi. Ciò detto, vediamo le previsioni del tempo, vediamo che il tempo sta leggermente cambiando dopo i cieli sereni dei giorni scorsi, vediamo qualche nuvoletta che appare sul cielo di tutta la regione. Una instabilità sparsa fino al pomeriggio, specie a sud della regione, schiarite poi a partire da nord. Le temperature massime raggiungeranno i 27 gradi, insomma siamo scesi rispetto ai giorni scorsi. Il mare è mosso, i venti ispireranno da una direzione di nord-nord-ovest, mentre nell'entroterra da nord-nord-est. Ed ora diamo subito un'occhiata alla rassegna stampa, ai giornali, quello che pubblicano i giornali a partire dal Corriere Adriatico questa mattina. E vediamo subito il titolo di apertura dedicato alla grande manifestazione, non solo fanese, ma di carattere regionale. Ebbene oggi per tre giorni si svolge a Fano il Carnevale. Sono tre giorni con due sfilate di carri, questa sera e domani sera, e poi tante altre manifestazioni di contorno per grandi e per piccini. Insomma ci sono tutte le età, i più piccoli, i ragazzi, gli adulti, insomma. Ci sarà tanto di che divertirsi, di rilassarsi, sperando che il tempo tenga, ovviamente. Con l'organizzazione del Carnevale estivo, il mese di agosto, pur ricco di eventi, propone la manifestazione fanese più importante. Tanto più che quest'anno ha guadagnato quello che si è perso a febbraio, perché a febbraio la sfilata dei carri non si è svolta. Quindi stasera, a partire dalle 19, Viale Adriatico ospiterà una kermesse di allegria, colori, musica, spettacoli, che occuperà tutto il lungomare di Sassonia. Ebbene, si partirà con il Carnevale in soup, nei pressi dell'anfiteatro Rastat, e poi ci saranno tante altre cose, una mostra fotografica di tutte le fotografie pervenute al concorso nazionale sul Carnevale. E poi ancora il Laboratorio Geniale, che ha organizzato un laboratorio di gommapiuma per i bambini. E poi ci sarà musica all'interno del parcheggio nella zona del mercato ittico. E poi sfileranno dalle 21.30 i carri di seconda categoria. Attenzione, di seconda categoria per dimensioni, dato che il Viale Adriatico non può ospitare i carri che sfilano in Viale Gramsci, ma non di qualità, perché sono veramente delle opere superbe, artisticamente molto valide, organizzate dai maestri carristi fanesi. E un'altra manifestazione, invece, che si è svolta e ha avuto un grande successo, è In Gir per Fan. Lo vediamo qui in questo articolo di spalla. Tra le manifestazioni di accoglienza, In Gir per Fan ha assunto convintamente il primato. Si tratta di una manifestazione che ha radunato in Centro Storico a Fano l'altra sera tantissime persone, soprattutto giovani. Sono stati venduti tutti i biglietti, oltre 1.600 biglietti, ma poi anche altra gente è intervenuta e ha affollato i negozi, i bar, i ristoranti del Centro. In Gir per Fan è una manifestazione che consente a tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino la città di agirarsi tra i vicoli, le piazzette del Centro Storico, assaporando le specialità gastronomiche più tipiche del territorio che sono sparse in un punto all'altro nei box del centro e così facendo possono entrare al museo, tutto questo poi gratuitamente, al teatro, visitare i luoghi suggestivi come la chiesa di San Francesco e insomma assaporare veramente con gusto il colore e il sapore della città. Cultura e gastronomia in questo caso vanno a spasso insieme. Un articolo di fondo. Il Getti restituisce Orfeo e le Sirene, ma non il Lisippo. Ebbene il Getti, il museo di Los Angeles, continua a dare opere rubate all'Italia, le riconosce che sono rubate. In questo caso si tratta di un gruppo di terracotta di grandezza naturale, noto anche come l'Orfeo e le Sirene. Però del Lisippo ancora niente. Sull'Elesippo il Getti si è interstardito, nonostante le sentenze italiane che hanno riconosciuto come la statua sia stata così, abbia caratterizzato il mercato abusivo della vendita di opere d'arte e il Getti ancora non cede. E dobbiamo dire che il nostro Ministero dei Beni Culturali non è molto attivo sulle richieste sul fatto di far valere la sentenza italiana nei confronti dell'America. Mentre qui in questo gruppo si apprezza il fruttuoso rapporto con il Ministero della Cultura italiana da parte del direttore del Getti Museum. Insomma, direi che questi rapporti non dovrebbero essere così pacifici fin quando il Getti ha il nostro Lisippo. Giriamo pagina e vediamo una bella notizia. Da Meggiugorie, la Madonnina che protegge gli automobilisti sarà benedetta domani da Monsignore Inter Guglielmi. Troppe vittime sulla strada. Da Meggiugorie a Torrette di Fano dove si allunga il rettilineo della statale adriatica sud dove sono accaduti tanti tanti incidenti. E proprio la Madonnina di Meggiugorie viene invocata per tutelare la vita sia degli abitanti di questa frazione, di tutte le frazioni, Metauriglia, Torrette, Ponte Sasso, che si dilungano lungo la statale ma soprattutto anche quella degli automobilisti. Una statua della Madonna sarà inaugurata a Torrette di Fano in ricordo di tutte le vittime degli incidenti stradali sulla statale adriatica. La cerimonia è in programma domani alle ore 18.30 quando il parroco Monsignore Antonio Inter Guglielmi celebrerà la messa all'aperto. L'opera proviene da Meggiugorie, la piccola località della Bosnia-Elzegovigna che è diventata uno dai più famosi luoghi di devozione cattolica mariana di tutto il mondo. All'opera, raffigurante la Vergine Maria, è dunque affidato il compito di proteggere chi transita sulla adriatica e allo stesso tempo la sua presenza ricorda le tante vittime purtroppo mietute dal traffico nel tratto fanese della statale adriatica sud. Passiamo a Fossombrone. C'è una raccolta di firme, una raccolta di firme per riaprire il cinema della città metaurese. In poche ore e duemila adesioni la sala è stata riutilizzata temporaneamente per mostre fotografiche ma è un punto di riferimento importante dal punto di vista culturale, spettacolare, di incontri, di coesione sociale. Un cinema non è solo un luogo di divertimento, un cinema è tanto e tanto di più. Ebbene, questa petizione invita tutti coloro che possono operare per la riapertura del cinema a farsi avanti e ad insistere perché questo traguardo venga raggiunto. E poi parliamo di incidenti stradali. Parliamo di incidenti stradali. Abbiamo appena finito l'argomento della Madonnina di Meggiugorie, di Metauriglia. Ed ora vediamo quello che è accaduto a Cantiano. A Cantiano una carambola a tre in ospedale moglie e marito. È accaduto sulla superstrada Fano Grosseto ieri intorno alle 13.20 nella vicinanza dell'uscita a Ponte Dazzo di Cantiano. È risultata ferita una coppia udinese che viaggiava su una jeep Renegade. Pesanti danni all'automobile coinvolte e chiusura per oltre due ore del tratto dove è avvenuto l'incidente. La donna è stata trasportata in elia ambulanza in Ancona. Vediamo poi gli altri incidenti. In auto abbatte un segnale e finisce nella scarpata a Mondolfo. Schianto nella notte. Svegliati di soprassalto i residenti di Viale Vittorio Veneto. L'altra sera intorno alle 2.00. Ebbene in questo caso un giovane automobilista è finito fuori strada al bivio con il Viale dell'Artigianato. Ancora un altro incidente. Lo vediamo dunque se lo trovo. Ce n'era un terzo. Un terzo. Vediamo un attimo. Sì qui. Tre schianti in poche ore. Ferito un motociclista. In questo caso è caduto a Fano. Ebbene urtato da un metronote illesi i componenti delle altre vetture coinvolte. Ebbene siamo nel periodo di ferragosto. C'è molto traffico nelle strade. Ci sono molte auto. Forse qualche volta passando molte ore svegli durante la notte poi magari si rientra tardi a casa un po' stanchi. Quindi l'appello è quello di cercare di essere morigerati. Di cercare di essere lucidi e vigili quando si è al volante. perché questo periodo di vacanze e di tranquillità non si trasformi in un dramma. È un appello che lanciano le forze dell'ordine ma lo lanciamo anche noi. Ed ora diciamo quello che sta accadendo invece a Mondavio perché a Mondavio c'è una tradizione che si svolge ormai da tanto tempo ed è la caccia al cinghiale con il celebre banchetto rinascimentale. Ebbene per una sera il chiostro di questo convento che è nel centro di Mondavio si trasforma in un luogo magico perché tutto si trasforma in un'atmosfera medievale. Ci sono i cibi medievali, ci sono le superlettili medievali, ci sono gli uomini, le donne vestite con i costumi medievali. È tutto come se per un sogno ci si riportasse indietro nel tempo. Tre giorni di eventi, oggi scatta la diciannovesima apertura delle taverne e delle vie. Ebbene un sipario in uno spettacolo veramente suggestivo che merita di essere vissuto. È una parentesi che si apre e si chiude ma lì dentro si vive come in un sogno magico. Taglio del nastro al Mississippi però il giorno dopo resta chiuso a Gabicce. Il Mississippi è appena inaugurato e di nuovo chiuso. Gli operai sono incaricati di rimuovere e prelevare le 300 sedie della sala grande e i tavoli che erano stati approntati nel terrazzo. A Senigallia invece c'è in spiaggia la deroga di Ferragosto. Si può stazionare un po' di più si può fare festa un po' di più ma attenzione con i locali aperti e musica fino alle tre di notte. Il sindaco l'appello mi aspetta un grande senso di responsabilità per un divertimento sano e spensierato, ha dichiarato. Vediamo anche qualche notizia di Pesaro anzi della Regione Marche per quanto riguarda le candidature. Ebbene c'è una contesa tra le quote rosa un duello Manzi contro la Morani nel Partito Democratico ne resterà una sola vedremo chi vince. La sfida interna per rimanere in gioco nei collegi plurinuminali e spunta anche il nome della Boldrini a complicare il quadro dei Lestini. Vediamo i nomi in lizza Alessia Morani del Partito Democratico Irene Manzi dello stesso partito e poi nel Partito Democratico anche Laura Boldrini che appare come così una immagine improvvisa e Michela Gattari presidente CIA in quota Partito Democratico. Per quanto riguarda invece le coalizioni vediamo che dalla Ricciati a Carraps è desiderata dei cespugli. Cespugli sono quelle quote di secondo piano che però esercitano un ruolo importante magari per dare quel tocco in più a un partito che si disputa alla pari contro l'avversario. Tra i nomi avanzati dagli alleati per una candidatura anche il socialista Gitto. Vediamo in quota verdi la proposta avanzata è quella del coordinatore regionale Gianluca Carraps che conosciamo tutti di Carraps e di Urbino però insomma lo conosciamo in tutta la provincia. Il partito di Giorgia Meloni invece conferma i nomi di Antonio Baldelli Giorgio Mocchi e Carlo Ciccioli e poi il partito socialista ha chiesto un posto per Antonio Gitto presidente di Ancona Ambiente e articolo 1 invece punta sulla fanese Lara Ricciatti. Lara è stata deputata nella tornata nella legislatura del 2013 in quota di sinistra Ecologia e Libertà poi è passata al partito di Roberto Speranza vediamo qui la fotografia di Lara Ricciatti quarte dosi in frenata solo un over 60 su 10 cerca un riparo nei vaccini rallenta la campagna del secolo un richiamo solo 47.300 iniezioni nelle marche contagi e ricoveri netto calo nell'ultima settimana o meno 35% di nuovi casi positivi ebbene cala la pandemia però dovrebbero ancora mantenere saldi i propositi della quarta vaccinazione in modo particolare agli over 60 perché i morti a livello nazionale hanno un trend costante ed è un trend non dico esagerato ma è preoccupante ugualmente insomma morire per covid in questo momento è sempre un dramma e poi vediamo quello che accade nell'area di San Decenzio a Pesaro prende forma dopo la sosta si riorganizzerà il mercato Frenquellucci incontrerà gli ambulanti terminata la fiera di San Nicola e qui invece vediamo come il Rondò mette tutti d'accordo anche sui terreni espropriati si parla del cantiere avviato sulle Siligate e l'altezza del Bivio per il San Bartolo un punto di riferimento unicrocio importante perché poi scende giù tutta la panoramica del San Bartolo in questo caso e raggiunge la Statale 16 un punto critico della viabilità all'uscita del capoluogo alla Baia il Giardino delle Dune scambiate per un cestino di rifiuti la trascuratezza ha ridotto negli anni l'area naturalistica alla focce del Foglia in un immondezzaio e qui vediamo delle foto significative di come l'area sia trascurata e a caccia al super sconto per la Tari in dieci giorni già sono 120 le richieste avanzate delle famiglie che rientrano nei parametri indicati dal bando Andreoli e Marchioni criticano gli aumenti l'assessore Pandolfi si concentra invece sulle agevolazioni ovviamente il Comune cerca di fare capire quello che è riuscito a fare per diminuire appunto i disagi dei cittadini mentre però gli aumenti ci sono stati e i disagi ci sono e beh è un contrasto che non vede mai fine qui invece abbiamo una storia edificante una storia edificante che riguarda un un extra comunitario si tratta di un uomo che è fuggito dalle torture ora ha un lavoro e ha molti amici grazie anche ad un atto di nonestà che lui ha compiuto lui che vive in condizioni piuttosto semplici disagiate ebbene ha trovato un portafoglio con dentro del denaro e lo ha riconsegnato da quel gesto di onestà è nato un profondo legame tra il proprietario e Farouk che è originario del Bangladesh ebbene la sua storia è un romanzo Farouk ha raggiunto l'Italia dopo un'odissea durata dieci anni un'odissea che è iniziata quando un'alluvione ha distrutto la sua attività con la quale sosteneva la famiglia nel Bangladesh ha distrutto tutto l'uomo ha dovuto quindi emigrare per cercare fortuna altrove ha passato otto anni in Libia tra momenti di grande disumanità torture minacce con la pistola uccisioni a sangue freddo compagni rinchiusi in cella senza poter mangiare e bere finalmente la 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 traversata del mare mediterraneo 32 ore in mare anche qui senza mangiare né bere e poi finalmente la salvezza ha raggiunto Pesaro dove è stato soccorso inserito in un percorso di integrazione dalla cooperativa labirinto e qui si è installato appunto nel nostro territorio è un caso di umanità che però non è solo singolo ma riguarda tante tante altre persone fa bene leggere questo articolo da Vallefoglia a Villa Fastigi il pesarese fa gola ai gruppi privati di sanità e welfare la società gvm care research è interessata alla struttura sociosanitaria inaugurata nel 2019 vediamo anche la pagina di Urbino sit-in davanti al municipio palestra vicino alla scuola lo rivendicano i ragazzi di Fridays for Future che chiedono di aprire un dialogo una esigenza per tutti i ragazzi vediamo anche la pagina fanese del resto del Carlino l'apertura è dedicata al carnevale sfilata dei carri e getto torna il carnevale estivo stasera in città festa per la tre giorni dedicata all'amor scortese dalle 19 la Sassonia si accende tra musica mostre e laboratori e adesso le notizie meno piacevoli luce e gas stangata sulle casse del comune anche il comune sopporta il peso del caro vita dell'aggravio del caro vita l'assessore Cucchiarini avvisa non ci sarà nessuna riduzione delle ore di erogazione dei servizi come riscaldamento la luce eccetera però ci sono tanti aumenti che il comune deve sostenere circa 850 mila euro in più rispetto a quanto preventivato nel 2021 Marina dei Cesari e Asta all'orizzonte ebbene per quanto riguarda il dissesto finanziario di questa impresa Porto Turistico di Fano si sta procedendo forse ad un'altra Asta dopo il ricorso presentato dal titolare di Marina di Cesari ovvero Alberto Cazziol al tribunale di Ancona solo in apparenza ci sarebbe un nuovo ci sarebbero almeno nuovi interlocutori che potrebbero rilevare l'impresa non c'è solo il fondo il fondo come si il fondo di Agostini alla finestra a guardare ce ne sono tanti altri ebbene il resto è Carlino oggi fa un po' il quadro della situazione e avanza alcune ipotesi ci sono poi altre ipotesi che riguardano la costituzione sempre a Fano del Marine Center questa grande istituzione culturale che si è insediata nel laboratorio di biologia marina di Fano e che dovrebbe inaugurare anzi avrebbe già dovuto inaugurare nel mese di giugno il grande acquario rinnovato in maniera didattica e anche così informativa per il pubblico che purtroppo per qualche ritardo slitterà questa inaugurazione nel mese di settembre Fano Marine Center opera ferma al palo acquario pronto ma il comune non si muove e qui abbiamo anche una certa critica avanzata da Antonio Danovaro della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli che è uno dei soci appunto di questa nuova impresa che dice che il problema è legato alla depurazione delle acque delle vasche insomma anche qui qualche problema in più a Urbino slogan antipalestra dai free days for footer il movimento ambientalista ha sfoderato uno striscione e poi ha incontrato il sindaco per chiedere di non costruire l'infrastruttura per la scuola del libro invece a Monteporzio a piedi nel segno di San Francesco da Castelvecchio al Beato Sante in 18 percorreranno i 30 chilometri lo faranno a piedi 30 chilometri che fanno parte di un pellegrinaggio giunto alla settima edizione ebbene da Castelvecchio al Beato Sante tra sali e scendi nel nostro territorio è un bello sforzo di carattere fisico ma anche un bel appagamento di un desiderio di fede e poi Mondavio si tuffa nel rinascimento tra dame cavaliere e banchetti di questo abbiamo già parlato vediamo qualche notizia di Pesaro DJ set aperitivi e cartoni animati Ferragosto è già verso il sold out tante le iniziative e tutte le attività private ma anche quelle pubbliche organizzano in occasione del Ferragosto che è un po' il top delle presenze turistiche della nostra riviera gli stabilimenti di Sottomonte sono pronti con giochi e altre iniziative sculture in cartapesta ai bagni Itaca e poi ci sono le cocomerate ci sono gli aperitivi ci sono anche un po' gli scherzi con le bolle piene d'acqua insomma Ferragosto è sempre Ferragosto ozonoterapia jacuzzi massaggi e escursioni negli agriturismi il relax la fa da padrone dobbiamo dire che non c'è solo la costa a Ferragosto ma ci c'è anche l'entroterra che insomma organizza tante tante iniziative e poi voglio segnalarvi perché insomma siamo a Ferragosto ma settembre non è lontano al Mamiani 460 mila euro vedremo come spendeli si parla di scuole si parla di anno scolastico le strutture scolastiche si attrezzano per la nuova avventura ci sono soldi a disposizione ma qui ci sono due presidi che dicono la loro per quanto riguarda l'impiego di queste risorse Roberto Lisotti e Samuele Giombi e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a mercoledì prossimo perché poi domani domenica poi c'è Ferragosto martedì non escono i giornali noi ci risentiamo martedì prossimo con la nostra l'assegna stampa intanto vi auguro un buonissimo Ferragosto grazie per l'ascolto a risentirci grazie